Andiamo dall'ultimo Vabbè questi ovviamente ce li prendo Cioè vado a prendere sempre più alti di rate Tanto, ma è vero È vero ragazzi quest'anno Fate conto che dai pick Tutti i giocatori che possiamo andare a trovare Li possiamo addirittura Andare a mettere nel Nel builder È vero figata sta cosa Sì nell'archivio vanno a finire Bella come cosa è vero Quindi praticamente anche sempre dei doppioni Sempre winner Perché poi mi ando a buttare Nel archivio Ottimo Rodrigo cosa posso mettere Una bella cacciatore secondo me Secondo me è una bella cacciatore Allora Giro Sì ci metti una cacciatore e via è la cosa migliore Per quanto mi riguarda Allora De Vrij De Vrij ok Andiamo con il terzo ultimo Andiamo Golovin È vero quest'anno ragazzi Se dai pick trovate I doppioni Li prendete E li andate a buttare Poi nell'archivio Non è come l'anno scorso Che li lasciavate lì Poi dovete andare a buttare Successivamente In un'altra sfida Carina come cosa È vero è vero Sta cosa dell'archivio è cramorosa Chichio Verona Che d'altro quella era addirittura una fazzio di Verona Era addirittura una fazzio di Verona Con il buon Sergio Pelissier Bella Guagliaro Bella Ok Va bene Ha vinto il sì Ha vinto Adesso Ma c'è anche l'iro C'hai Se dopo i prendi gli altri Sì 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 Chiediamo se troviamo un 88 più Back to back Vai Vettate ragazzi Vettate Vettate Dai vediamo cosa c'è di qua Magari Magari sì ragazzi Dai Vediamo Eh è vero Anto comunque È vero è vero Ma vediamo cosa esce di qua Secondo voi Quale sarà il player Che si nasconde Che si cela qui Signori Da questo panchettino Chi esce secondo voi di qua Sborek e Dudek Ah Eh Sborek è interessante Chi che ha betato uno raga Ma che sto vedendo Chi è che ha betato Chi è che ha betato uno raga Non ci credo Non ci credo Non ci voglio credere Ma no Ma mica potete bettare uno Che roba è Eh Dai Allora Qua abbiamo signori Un pacchetto da 100.000 Cioè sono 20 euro di pacco Praticamente sono 20 euro di pacchetto questo Eh Un'inizio da questo pacchetto È betta allora Sia il coraggio betta Non ti tirare indietro Eh Tocca bettare adesso eh Tocca bettare Tocca bettare Ovvio No Però bettate di più Non Non un punto raga Ci doveva con un punto È normale Scusate Per caricare questo Eh bettate di più Almeno no Scommetto che trovi Odegaard Eeeh Twitcher non betta Però Visto Non hai il coraggio Di inventare Dai Noi vogliamo che betti CC Devil League Buono Quanto budget Hai a disposizione Dipende dal budget Secondo me Come cc Potresti mettere De Bruyne No I Guimaraes Guimaraes Può essere pure oggi Salmon Tu vieni le carte Che sono state Consigliate Che gruppo Sempre in ventre Di mettere quelle Grande Moli Buongiorno Come va Buon pomeriggio King Getro Stato Stato Il favore Stilentisa Cacciatore Cacciatore Allora Siamo pronti Sì Rodrigo è molto forte Anche da attaccante Rodrigo va bene Comunque Va bene anche Da D'attaccante Rodrigo Non è un problema Va bene Da attaccante Va bene anche Da esterno Ci può stare Tutta la vita Trova un po' Presidente Di Stacacciatore Come attaccante Uso Griezmann E lo dico Ma li vorrei cambiare Perché non mi piacciono Vado ragazzi Sono in meta Del momento Sono in meta Comunque Ma lo sai che Aspiliqueta Il team Gullit L'ha messo Come Ne stavamo parlando Ieri Pago Aspiliqueta Nata in list Il team Gullit L'hanno messo I top 5 DC del gioco Non so per quale motivo Credimi Non so per quale motivo L'hanno messo in top In top 5 Del gioco Non so per quale motivo Però Vabbè Tanta roba Tanta roba E certo Andre ovvio Quando volete Madonna Zapata Zapata C'è la sostanzia In classifica Allora Diamo un attimo I punti Allora Oh E di là E niente Con questi pacchetti Che si scioppano 15-20 Era pacchetto E insomma Se si può dare qualcosa Ma magari Allora Matti Ok Così Diamo i punti Ok Perfetto Top E' un troll No 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 Sono abbastanza influenti Caspita Cioè ho giocato prima In Reynolds Con 33 Ma non ho fatto 3 a 3 Mazzamichi Stai carico Bravo bravo Con che modulo Stai giocando Bellissimo Il sium Bellissimo Bellissimo Qual è il modulo in meta Cioè quello più utilizzato Punto esclamativo 4-4-2 Però Diciamo che è tutto quanto Suggettivo Qua c'è l'eliminato Il gruppo della comparità Basta che vi abbonate Sulla pietra forma viola Abbonatevi Gratis con Amazon Prime Chiaramente Il sium è in prestito Però si Si stucca il bro Il sium è in prestito Va bene Allora Ha vinto il no Ha vinto Giusto Ho cambiato Passare 4-1-3-2 Ah 4-1-3-2 Bello Bello Il 4-1-3-2 Non male Non male Non male È una trollista No 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 Erano serie Erano caspita Allora Due pacchetti da shoppare Vediamo il primo Quindi dal valore Di 15 euro Signori 15 euro 15 euro C'è c'è Statut di tense Attenzione Chi è 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 Oddio Forse Eh no Vabbè dai Lavelle Questa l'anno scorso L'abbiamo trovata in tutte quante le salse Praticamente Ok va bene Che poi i ragazzi E poi i ragazzi le fanno E dai Oddio Ternandez No Non è Ternandez Mannaccia Pavard Non è Ternandez Stavo già sognando Vabbè dai Pavard Accollatelo Accollatelo Non è Ternandez Dove le ha messi i giocatori Nell'archivio Nell'archivio Quando tu vai nell'SPC In alto a destra C'è scritto archivio Archivio giocatori Ok Quindi tu Nell'archivio C'è praticamente Tu vuoi rovinare Abbiamo due pacchetti Due pacchetti Da 1000 FC point Va bene Quindi due pacchetti Da 1000 FC point Ehm Vi voglio rovinare Perché Dai andiamo ad aprire tutte e due Vai Senza paura Mercoledì Impulse Sì Mercoledì Mercoledì Comunque c'è proprio la dear list Luigi Bello Buongiorno E lei è blanca Blanchita Io voglio la sua amica No Non ci credo Time Dai non ci credo Penso fosse la care Penso fosse la care Non ci voglio credere Stavo già tutto casato Stavo già tutto casato Raga Non ci voglio credere Vabbè dai Che scam Che scam Ero convinto fosse la care Ero tutto bello casato Andiamo con le altre 1000 FC point Dai Era buona Era buonissima la care Gli studiatori Che non seguono le scelte Ma in 3D player Perché su rush Non passano il pallone Su rush Non passano il pallone Qual è il problema Cioè quando tu giochi a rush Non passano mai il pallone Non so perché la gente Non Non la passa Quella palla Sarebbe molto più bello Se la gente passasse il pallone Invece non la passano Praticamente mai Sterling com'è Può testare a Sterling Vediamo se ci troppo Qualcosa interessante Dai Vediamo Vabbè dipende pure Dipende pure da te Figurati Premerseriato Allora Puoi aprire Invitatemi Che vi apri i pacchetti Se volete Allora Ok Stones Stones Decent Decent No ma Ah c'è con te anche Pareco Stones Petropor Rodriguez Va bene Va bene Va bene Sto schizzando le carte Quindi Vabbè stanno già salendo Per quello Questa è la prima Sì è la prima Di FC 25 È la prima Di FC 25 Yes Ok possiamo andare Let's go Sì pacchetti pure Valgono un sacco di soldi Eh Sti pacchettini qua Valgono un sacco di soldi Eh L'icona L'icona arriva L'icona arriva Dai manca Manca poco ormai Eh Let's Ma Ok Dai non manca tantissimo Ma ci siamo Ormai ci siamo Per l'icona La tesi è finita Come faranno Una settimana Una settimana hero In modo tale da Da gestire bene Anche I fodder Voi dovete essere bravi Comunque a seguire il gruppo È quello che vi dico Nei ragazzi In modo tale da non Da farci credi E basta Capito Questi buttiamo Tranquillamente sopra Vai Perfetto Qua abbiamo Signori Un Missy Prime Vabbè questi qua Li apriamo subito Tanto Non ci interessano Questi li apriamo Al volante proprio Calcio femminile Quindi mi ci sono ritratto Dei passaggi Infiltranti Lancetevi La tentativa Anche quella è top Pure eh Bello Ah 82 82 82 82 Tu devi ridere Perché vendi le carte Stacca la spiglia Non devi ridere Perché esce qualcosa Dei panchetti Tu ridi Perché vendi le carte Si stanno già alzando Eh Si stanno già alzando A voi ragazzi Quello interessa Che si comprono le carte Quello vi interessa A voi Che abbiamo qua Ah Ginter Vabbè Il grande Ginter Ci posso stare Questi pure Li buttiamo sopra Eh lo so Ragazzi Però Deve calcolare Che l'Igon È sempre un rischio Sempre Sempre un rischio Ti può andare bene Come ti può andare male Io onestamente Sì Vabbè Io ci proverei Ci proverei sempre Comunque Barcellona Madonna Peccato Peccato Allora Peccato Peccato Allora Questo lo possiamo Puttare sopra E Abbiamo tre pacchetti Mega pacchetto Mega pacchetto Ok DC Italia Serie A Chi è Ah Ok La pacchetta Settimana Come ti guarda C'è la pacchetta Vabbè Si sapeva che esce la pacchetta Meno male Io dico Allora Non può vincere Il provvedore un giorno Un giorno sì Non quest'anno Secondo me Quest'anno no Secondo me Non lo vince quest'anno No Lo poteva vincere Quando ha vinto Le siti Da Champions League Quest'anno Non Secondo me Non lo vince Secondo me Che esce alle 19 Se me esce un contenuto ripetibile Che sia pacchetti O pick Per me esce un contenuto ripetibile Secondo me Poi lo vediamo Lo vediamo Perché tutto può essere Ah Ho visto Bello Sì 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 Ho visto Quattina 84 Sì è vero È vero È vero È vero È vero Ma comunque di base Fai conto che Bellingham Vabbè da mezz'ala Da mezz'ala Lo metti da mezz'ala Magari Ci può sta Alla DS Sì da mezz'ala si è Chi è questo? Ah Ok No Vabbè io non so perché Ho visto Tottenham Io ragazzi sincero Ho pensato anche un po' Son Eh Eh sì Ho nerfato anche un po' Un po' Son Neville Ok Bene così Bene così Bene così Bene così DC Olandese La Liga Attenzione Girona Ah Hai visto Blind Ah Meno di niente Dai Meno di niente Tra l'Ulo e Frenato Orse Eh ma mo esce L'Icona Attenzione Ma siamo pronti Primo pacchetto Vai Mi fa mandare la foto su Isto Dovete aspettare che 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 vi accetto le richieste Eh Solo le abbonate di King Menzu li danno Quei pacchetti Solo a chi è abbonato al Kingone Questi quelli possiamo buttare sopra Perfetto Un centrapista dimensivamente vicino ad Bombati Iaia Touré Secondo me Fai Iaia e Bombati E c'è una crema Easy A meno che Se magari hai meno budget Potresti andare a prendere qualcuno Della Della Liga Tipo magari C'è un minì Per esempio O Camavinga Anche il buon Camavinga La caca Eh mo è d'obbligo Sbloccare Covara Schelia Potmo Comunque È d'obbligo Sbloccare Covara Schelia Potmo Ciao King Bella Andrea Tutto bene Buongiorno Buongiorno Bello mio Che cos'è Dici Ho centrapa di budget E allora vai su quelle soluzioni economiche Che ti ho detto io Che ti ho consigliato io Fai tranquillo Arsenal Chi è Gabriel Vabbè dai Vabbè dai Ci possiamo stare Ci possiamo stare Consigli di squadra più quattro pacchetti Sei tu giusto Il tuo account Vero Ok Però no pacchetti Vieni tra la richiesta Per qualche consiglio per la squadra Ora devi subentrare il buon Tex Tex tocca a te Tocca a te Icardi No Osimen Victor Il football Osimen Un attaccante incredibile Victor Il football Osimen Benissimo 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 Bello Conde Vabbè questo pacchetto è supremo Attenzione Attenzione Spagnolo La Liga Ocio Real Madrid Sarà Carvalgiallo Carval E il buon Gabri Doppio Ok Non è il doppio Mi si aspetta Vediamo Insomma Vabbè buon Gabri E' arrivata I giocatori Nel menù Nel menù Quindi comunque Menù che si bloccava Risultava essere bancato Dovrebbe essere stato Terfato Anche Sì Esatto Andrè Dovrebbe essere stato Terfato Anche il Ovviamente La CPU Speriamo 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 anche quella Vediamo Comunque Quindi ci sarà Molta più stabilità Per quanto riguarda Il menu Di FC25 Finalmente Possiamo godere Tutti quanti